buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo pescare a spinning al lago dell'olmo si trova a tornaco in provincia di novara lago bellissimo dove siamo già stati a fare qualche avventura e non vediamo l'ora di tornare e di divertirci anche questa mattina a tra poco ciao a tutti auguri di buon natale anche se è trascorso da un giorno e soprattutto un buon anno a tutti con la speranza che la pesca porti buoni frutti fa anche rima grandi ragazzi lago dell'olmo grazie a trovarci il lago veramente stupendo adesso il video uscirà immagino a gennaio e quindi per l'anno prossimo tante altre pescate grazie mille ciao a tutti grandi ragazzi eccoci arrivati in arriva al lago bellissimo lago molto grande per cui pescheremo con spoon più pesanti inizieremo tra i 2,8 e 3 grammi eccola la prima trota è arrivata bellissima è bella e ecco un'altra bella trota si è salamata da sola arriva e ecco un'altra bella so ma dai testo in azione col cane non è cane non catturare il cane, dai vieni, grande Adler, bellissima, grandi, bravo spettacolo c'è un'altra, bellissima c'è un'altra, bellissima c'è un'altra, bellissima c'è un'altra, bellissima lago dell'ormo, bellissima felpa, grandi grazie 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 grazie